ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale guardate finalmente che cosa ho trovato ho trovato la quarta collezione delle gorgio santoro le bamboline ragazzi sapete che io le amo le adoro ho fatto le altre collezioni ho la prima la seconda la terza non sono tutte complete forse ho completato solo l'ultima la terza questa collezione non la completerò lo so già penso che andrò a prenderne forse ancora un paio non di più e non le ho prese la mia solita edicola almeno per ora e quindi diciamo che è stato un po' scomodo trovarle però sono contentissima di averle trovate allora come c'è scritto qui questa quarta diciamo serie stagione mi sta venendo serie e fiori e fatine quindi è proprio incentrata sulle gorgio che hanno fiori che hanno le alucce da fatina e sono nel bosco eccetera allora purtroppo non ho il libricino grande ragazzi non ce l'ho perché non me l'ha dato la signora dove sono andati a comprarla è super gentile mi ha detto che me li tiene perché mi ha detto che non li prende nessuno come al solito purtroppo e quindi li ha buttati però mi ha detto sicuramente farò altri ordini perché in questa edicola le gorgeous vanno e quindi sicuramente prenderò altri libricini e te li terrò perché è giusto che tu hai pagato la confezione e ce l'abbia però qui si vede già abbastanza la checklist e ragazzi è super carina veramente veramente tanto a me piace e io voglio troppo lei ve lo dico lei è una delle mie gorgeous preferite ha i capelli super lunghi con tutte le rose e il cestino lei mi piacerebbe trovarla perché ha questa acconciatura un po' particolare e poi mi piacerebbe o lei o lei e quella rosa il resto sono un po' optional anche la viola non è male ma sono tutte super carine insomma bando alle ciance io direi di iniziare a aprirle ah per il costo vengono dov'è c'era scritto ok 3,99 sono sempre un po' costose ma a me piacciono talmente tanto che lo sapete le compro allora andiamo ad aprirle con la forbice cercherò di non rovinare troppo se vedete ombre o roba strana oggi è una giornata orribile ho messo il flash allora vediamo se non riesco a non spoilerarmela subito carino già guardate che bellina la checklist piccola bella mi piace fatta così che poi si apre eccola qua oh che bella guardate allora io lei la voglio cioè se non l'ho trovata stavolta in teoria ho tacciato abbastanza e ho preso qualcuna che sembra grande perché vedete questa e questa sembrano più spesse rispetto alle altre però non so c'è scritto che abbiamo trovato? abbiamo trovato lei quindi non una delle mie preferite è quella col vestitino viola andiamola subito a vedere eccola oh cutie ciao tra l'altro anche questo c'è scritto che sono profumate adesso farò la prova la prova da naso quindi cercherò di annusare e vedere vediamo di che cosa fa perché non l'ho neanche ancora letto oh sì sì il profumo si sente tanto però non saprei non è un profumo che mi fa impazzire allora questa è la bambolina la mette bene a fuoco che cosa ha in mano? sembra uno di quelli che noi chiamiamo ranuncoli al vestitino viola i capelli di questo colore che sono marroni però un marrone tendente al viola anche questo le calze così a righe classiche e hanno già la base attaccata gialla carina a questa gli do un voto vediamo un po' a lei gli darei un 6 perché come ho detto non mi fa impazzire purtroppo allora infatti è proprio un ranuncolo quindi avrà il profumo di ranuncolo che odore ha il ranuncolo? io non lo so non l'ho mai annusato un ranuncolo vabbè lei è la prima poi come sempre mi dico non farò un video lungo e poi mi perdo in chiacchiere, in dettagli eccetera allora vediamo un po' spero che almeno una mia preferita caschiterina ci sia volevo una checklist ok ok bisogna aprirla per vedere dai 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 no? dov'è? ah ok la fatina la fatina carina per carità bubble fair allora sogni un cielo stellato speranze si accendono desideri e la magia delle stelle è questa qua andiamo a vedere com'è che carina però dai carina beh mi piacciono tutte ragazzi però volevo le mie preferite e sono già sono già un po' così allora lei è molto molto carina povera stellina si è un po' piegata guardatela vestitino blu lavorato capelli neri stellina bacchetta magica le alucce le alucce mi fanno veramente impazzire tra l'altro sono fatte benissimo perché guardate hanno i capelli sopra e belle le calze con le stelline la base è blu carina però ragazzi non è tra le mie preferite cioè bella è per carità però vediamo qua che poi uno che spera tanto di trovare quelle che le piacciono ci rimane un po' male io lo dico cioè un pochino male ci rimane perché dici caspita no 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 aspetta bambolina doppioni non dovrei averne trovati perché mi ha detto che ecco appunto non è un'altra delle mie preferite che scatole però vabbè non è brutta ricevi fiorire impel cuore sì ah non ho fatto l'annusa l'annusata di questa questa ha un odore molto dolciastro tipo chewing gum diverso però dall'altro in effetti vediamo com'è bella però mi piace perché ha questi colori lilla e mi piace molto vediamo un po' che la vado a aprire l'ultima secondo me me la sono spoilerata perché ho provato a guardare un po' in controluce e niente l'ho un po' spoilerata secondo me l'ultima sarà quella rosa che è una delle mie preferite speriamo comunque lei mi piace anche abbastanza perché è tutta sui toni del lilla sembra azzurro il vestitino ma in realtà è lilla i capelli sono violetti la base è viola e vediamo il profumo non ha un profumo particolare un po' di borotalco però non è proprio il classico profumo che si distingue ecco però è carina mi piace vediamo l'ultima secondo me l'ultima sarà questa rosa perché come ho detto un po' sbirciato e mi pareva poi magari no magari tutt'altro perché non lo so questo unboxing è andato così solo che non ne volevo prendere tante ne volevo prendere al limite ancora due vediamo allora apriamo un po' no vedete che non ci ho azzeccato un cavolo questa allora questa non mi dispiaceva come vi ho detto con i gigli penso sì il giglio bianco vediamo com'è ecco questa aveva la base un po' grandina vedete carina ma anche questa non mi fa impazzire sono arrabbiatissima in realtà ragazzi sto cercando di trattenermi ma almeno una delle mie preferite la volevo porca di quella miseria allora carina perché ha questi gigli la sciarpina però è mobile nel senso che non è attaccata vabbè questa è proprio un po' la faccina malinconica ha gli occhietti chiusi profuma come le altre secondo me solo la prima ha un odore un pochino diverso il resto sembrano di borotalco e ha la base bianca ed è come vedete grande nel senso la base è grandina porca di quella miseria dovrò comprarne altre perché come vi ho detto io volevo questa 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 e questa qua ecco praticamente ne vorrei ancora una, due, tre quattro praticamente tutte mamma mia vedremo ragazzi a voi quale piaceva di più fatemelo sapere poi in un commento ve li lascio qua tutte le le gorgeous che ci sono adesso ve le metto qua davanti le metto un po' in ordine di preferenza allora questa è tra quelle che ho trovato la mia preferita poi c'è lei la fatina poi forse lei e lei però come ho detto non è che scusatelo anche se c'entrate non mi fanno impazzire purtroppo lei sì lei mi piace parecchio perché ha i colori carini le altre potevo anche farne a meno mettiamola così porca miseria però vabbè sono comunque molto belle e un paio le prenderò ancora magari anche tre vediamo e ovviamente farò l'unboxing bene ragazzi sono comunque fatte bene non voglio assolutamente sembrare una che non le piacciono eh solo che come ho detto le mie preferite erano altre fatemi sapere in un commento se voi le avete prese le prenderete le collezionerete eccetera io vi mando un grosso bacio da qua dietro dalla retro della telecamera vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti lasciarmi un bel like e commentare qua sotto con le vostre impressioni su questa collezione noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao